. Grande Fratello 2018 due punti cambia giorno di messa in onda, ecco perché. Grande Fratello 2018 anticipazioni, cambia il giorno di programmazione del reality show. Arriva il primo cambio di programmazione per il cancelletto Grande Fratello 2018. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dalla seconda puntata il reality show cambierà giorno di messa in onda su Canale 5 e quindi non sarà più trasmesso di martedì sera, così come è accaduto con la puntata iniziale vista da quasi 4 milioni di spettatori in prime time su Canale 5. Ecco come cambia la programmazione del Grande Fratello 2018. . Possiamo svelarvi che in casa Mediaset hanno deciso di non rinunciare alla messa in onda delle partite di semifinale di Champions League 2018, che saranno trasmesse in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 sia martedì che mercoledì sera e quindi per questo motivo hanno scelto di modificare la programmazione del reality show condotto da Barbara Durso. . 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